Il testo espositivo. Il testo espositivo o informativo ha lo scopo di informare il lettore, cioè di trasmettere delle conoscenze su un determinato argomento, fornendogli in modo chiaro notizie, dati e spiegazioni. Sono testi espositivi, le riviste, i giornali, ciclopedie, i testi scolastici. Lo scopo del testo espositivo è quello di fornire informazioni su un determinato argomento, che può essere storico, geografico, scientifico, politico, sportivo, culturale, eccetera. La narrazione è sempre terza persona. La struttura del testo. Le informazioni sono presentate secondo un ordine preciso, che può essere cronologico o logico casuale. Le informazioni vengono organizzate in paragrafi, sottolineati e o numerati. Le tecniche. Usare un linguaggio chiaro, preciso e termini specifici. Le notizie vengono date in modo oggettivo, evidenziandone le parole chiave, accompagnare il testo con foto, disegni, grafici, schemi, che chiariscono il contenuto. L'articolo di giornale è la cronaca. I quotidiani ci informano di ciò che succede nel mondo. Ci parlano di politica, economia, cronaca, cultura, sport. La parola quotidiano deriva dal latino quodidis, che significa ogni giorno. Infatti, i quotidiani vengono pubblicati tutti i giorni, riportando fatti accaduti nelle 24 ore. Come è organizzato un quotidiano? All'interno si possono trovare varie notizie. Politica interna, notizie riguardanti i fatti politici nazionali, politica estera, pagine dedicate alle notizie di politiche internazionali, cronaca, notizie di attualità, cultura, pagine dedicate alla cultura e all'arte, spettacoli, informazioni e novità su televisione, cinema, teatro, musica, economia, notizie sulla situazione economica italiana ed estera, sport, informazioni sullo sport. Per fare un giornale ci vuole una redazione, cioè un gruppo di lavoro in cui ognuno ha un ruolo ben preciso. La persona più importante è il direttore, è il responsabile dei contenuti del giornale ed è anche responsabile di tutto quello che viene pubblicato, sceglie e valuta le notizie da pubblicare. I redattori sono i giornalisti che scrivono i veri articoli del quotidiano. I grafici scelgono il modo migliore per disporre gli articoli, le fotografie nelle pagine. I fotografi documentano con le immagini gli articoli di cui si parla. Gli inviati sono giornalisti che vengono inviati a seguire fatti importanti in Italia e all'estero. Corrispondenti sono giornalisti che si trovano in una determinata zona dell'Italia o del mondo e informano di ciò che accade in quei luoghi. Scopriamo adesso la prima pagina del quotidiano. Testata è il titolo del giornale. L'articolo di apertura è il titolo che tratta l'argomento più importante del giorno. L'articolo di fondo è l'articolo che riporta un commento sull'argomento più importante del giorno e spesso è scritto dal direttore del giornale e si trova sempre in alto a sinistra. Civetta sono i titoli che anticipano le notizie riportate nelle pagine interne. Articolo di spalla è l'articolo che parla di un'altra notizia importante. Gli articoli di taglio medio o basso sono gli articoli meno importanti e prendono il nome dalla loro posizione. Poi alcuni spazi sono anche dedicati alla pubblicità. Guardiamo adesso la struttura di un articolo di cronaca. L'occhiello è la presentazione dell'argomento. Il titolo, scritto in caratteri grandi in grassetto, presenta gli elementi fondamentali dell'informazione. Il sommario riassume gli elementi essenziali dell'articolo e il testo dove vengono spiegati i fatti accaduti. La cronaca, da greco cronos, tempo, è la relazione, da latino relazio, riferire, in personale oggettiva, chi scrive non esprime mai la propria opinione, di fatti in ordine cronologico, in sequenza temporale. È un testo che racconta fatti reali, di cui chi racconta è stato testimone o protagonista, ricostruendo tramite dati e notizie quanto accaduto in successione cronologica e priva di opinioni personali. Ma come si scrive un articolo di cronaca? Esistono vari modi per scrivere un articolo. Uno dei più efficaci è chiamato regola delle cinque V. Who, what, where, when, why? Chi, che cosa, dove, quando, perché? Bisogna seguire la seguente struttura. Chi, chi è il protagonista, cosa, cos'è successo, dove è successo, quando è successo, perché è successo. Tipi di cronaca. Cronaca nera è reso conto degli avvenimenti che turbano le regole di convivenza civile, rapine, furti, violenze, incidenti ed è in genere collegata alle operazioni di polizia. La cronaca rosa è tutto ciò che viene definito anche gossip, il reso conto di matrimoni, fidanziamenti, nascite di personaggi più o meno famosi, è una cronaca leggera e non sempre veritiera, spesso corredata da servizi fotografici. Cronaca bianca è la narrazione di avvenimenti di interesse sociale come spettacoli, mostre, concerti. Cronaca sportiva. Si occupa degli avvenimenti che riguardano lo sport. Cronaca giudiziaria. È il resoconto di processi e sedute giudiziarie che riguardano fatti più o meno importanti. Schema per scrivere un articolo di cronaca. Nella prima parte prendiamo in considerazione le regole delle 5V. Quando, chi, cosa fa, dove, perché. Poi si sussegue a spiegare gli episodi, i fatti in ordine cronologico e infine come si conclude il fatto, la storia. Alla prossima lezione!